Buonasera a tutti, vi avevo promesso un video di prodotti finiti di febbraio e eccomoli qua, si lo so che non c'entra l'intera busta di Douglas, però non so dove metterli e vi metto, vi tiro fuori a caso cosa mi capita da dentro la busta uno è il, insomma, come si chiama, il bitrabonato di candeggina, ovvero le tavolette del CES ovvero le tavolette del WC, extra white, queste sono quelle che puliscono bene, detergono e sbiancano che poi, boh, non veduta questa chissà che, perché ovviamente ci vado dentro con il, a pulire tutto il CES se non importa, però, con un semplice detergente per pulire veramente, è veramente il butter perché sicuramente non fa nulla questo, solamente, e comunque nulla allora, 2x40, vabbè, stavo facendo questo, vedete ragazzi, questo, si vedrà? sì, questo, questo qua, no, non si vede, comunque lo dico io poi ho finito questi dentifrici, no, vabbè, l'altro dentifricio, sempre il senso da in questo che tra l'altro sarò propensa, ho cominciato l'altro, sarebbe questo sempre per denti sensibili e poi questo lo vedrete, già terminato, come adesso in questo caso, senso da in, per gengibili dei denti sensibili, questo, vedete? sì, questo qua, senso da in, molto buono, mi ci sono trovata stra bene poi ho terminato, mangiare il cibo e per asciugare il rotolo e asciugare tutto ho terminato questo qua, che è il rotolo e appunto asciugare tutto ho preso in un negozio qua vicino a casa e poi ho terminato lo yogurt della cremosa, sì, cremosa, lo sto dicendo yogurt e muller cremoso, yogurt ciliegia in pezzi non mi fanno impazzire, me l'ho mangiata lo stesso e non mi dispiaciuto, dopo delle verità a queste, mmm, ho un po' di, sono un po' schizzinosa a mangiare questa roba così, in pezzi ma me l'ho mangiata tranquillamente, so via, buona, comunque mi sono piaciuti davvero tanto, ecco qua, questi sono, vedete? muller yogurt in pezzi della ciliegia, buoni poi, 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 ultimo ma non per importanza, che ve lo dico a fare, grazie il vidallo terminato, acqua di cocco e monoi vedete, questo qua, acqua di cocco e monoi mi è piaciuto davvero tanto, molto buono e stra profumato e alquanto, come vi devo dire ah, sembra di stare chissà dove, vabbè, ve l'ho già detto in Thailandia, allora, busta terminata dei prodotti finiti di febbraio e vi lascio, ci vediamo un prossimo video se vi va, mettete un bel like di supporto, commentate, condividete iscrivetevi e attivate la campanella ciao, a presto, buona domenica ancora